La mia relazione sarà molto breve e sintetica sul problema del riconoscere gli studi anche di qualità e soprattutto riconoscere all'interno dello studio epidemiologico quelli che possono essere errori inevitabili, quindi naturali, insetti proprio nel disegno dello studio, quelli che possono essere casuali e quelli che sono stati introdotti in modo deliberato proprio per aggiustare i risultati. Nella mia esperienza, e possiamo anche verificarla un po' tutti guardando molti studi che abbiamo sotto mano e che sono pubblicati e sono disponibili, abbiamo dei risultati paradossi che dimostrano in qualche modo, o meglio, che segnalano che la popolazione in qualche modo ad esempio inquinata sta meglio di quella non inquinata. È successo ad esempio con molti lavoratori, è successo con i militari italiani, è successo con anche altre esperienze. Ecco, in realtà potrebbe anche essere vero ovviamente, ma potrebbe anche non essere vero. Quindi io invito, quando si legge un articolo scientifico, a non limitarsi a leggere le conclusioni, ma a guardare i risultati, guardare la coerenza con i metodi usati e soprattutto se tutto ciò è coerente con l'obiettivo che era quello a monte, cioè l'obiettivo dello studio. Cosa voleva dimostrare lo studio? Ecco, io, nonostante sia oncologo, in realtà ho visto troppo spesso parlare solo di cancro e parlare solo dei famosi big killer, cioè con i 4-5 grossi tumori in termini di frequenza, polmone, mammella, prostata, colon, e parlare molto poco ad esempio dell'insieme dei tumori. Anzi, adesso va di moda parlare dei tumori rari, che sicuramente bisogna affrontare, è un problema assolutamente importante, ma dal punto di vista eziologico è molto complesso, è più complesso. Ci vogliono studi ad esempio caso controllo per poter capirne le eziologia. Allora, ecco, io direi sarebbe utile riguardare in modo scettico e costruttivo ovviamente ogni ricerca scientifica che ci viene proposta, anche ovviamente pubblicizzata e pubblicata anche su grandi giornali, perché se siamo ancora a questi punti, cioè di non avere il polso della situazione, cioè di avere il monitoraggio esatto, anno per anno, per fasce sociali, di esposizione, di età e quant'altro, dell'andamento, del perché certe malattie non spariscono, anzi aumentano, io penso che dobbiamo partire da lì, cioè da descrivere anche le priorità, quindi capire le grandi popolazioni dove stanno bene, dove stanno male e il trend temporale, per poter appunto concentrare gli sforzi scientifici ma anche economici, perché avendo una limitazione nelle risorse dobbiamo effettivamente scegliere cosa fare e cosa non fare usando dati assolutamente tempestivi e tra l'altro adesso abbiamo una legge, quindi se è un piccolo flash che vorrei fare, una piccola pubblicità e un piccolo augurio, la legge sui registri tumori e sul referto epidemiologico compie oggi 5 mesi, ecco in realtà è una legge, ovviamente a costo zero perché viene detta risorse zero in qualche modo, però in realtà la cosa più costosa noi sappiamo come ricercatori è proprio produrre dei dati, ecco in questo caso si tratterebbe di utilizzare quindi i dati che già sono presenti e che vengono prodotti quotidianamente da tutti i nostri sistemi demografici, clinici e statistici per finalmente cominciare a leggerli in modo epidemiologico e quindi rendersi conto di come sta andando la salute delle varie comunità differenziate e lo possiamo fare nelle nostre città, quindi differenziando per quartieri, per classe d'età, per fasce sociali, per gruppi con servizi o meno e possiamo quindi sapere come mai i bambini stanno, sembra, percepiamo, speriamo che non sia vero ma purtroppo è un percepito che mi sembra vero, stanno prendendo più farmaci rispetto all'equivalente popolazione di bambini di 10 anni fa o di 15 anni fa, hanno più segnalazioni di malattie o altro, però questo dato manca, questo dato non è aggiornato e invece noi dobbiamo aggiornarlo, quindi anche l'uso dei farmaci noi sappiamo che è monitorato e dobbiamo quindi farlo parlare, non solo per dare un'informazione diciamo tecnica ed economica ma anche proprio per dare un'informazione di salute pubblica che è il nostro grande obiettivo.